La scuola riforme d'intorni, congresso straordinario della UIL ad Agrigento in presenza delle segreterie nazionali e regionali. Le interviste alla videogiornale Irene Milisenda. Ad Agrigento si è svolto il congresso straordinario della UIL, le scuole in presenza tra gli altri del segretario generale Pino Ture. I partecipanti hanno dibattuto ampiamente temi di più incombente attualità, con specifici approfondimenti sulla cosiddetta buona scuola. La legge di riforma del settore, approvata dal governo Renzi, è che, secondo il sindacato, presenta nella sua applicazione concreta molti punti critici. Sotto l'aspetto più tecnico e politico emerge con evidenza la poca attenzione alla scuola dell'infanzia, all'orientamento, e, tra le altre criticità, anche l'esclusione dal piano straordinario di assunzioni di numerosi lavoratori precari della scuola, docenti e personale ATA, pur avendone requisite. In generale, le segreterie nazionali e territoriali UIL affermano che La legge 107 dovrebbe ridare maggiore autonomia alle scuole, docenti e alle università. Servono delle modifiche appropriate alla legge che impediscano e pervengano la trasformazione della scuola da luogo di cultura ad una sorta di ufficio pubblico. Quello che bisogna fare è dunque rinnovare l'impegno per ricostruire un clima di coesione tra tutte le componenti che operano nella comunità scolastica, riaffermando un'idea di scuola partecipata fondata su collegialità, condivisione e inclusione. Rilanciamo la struttura di agrigente e parleremo di scuola come è il nostro costume. Costituiremo il nuovo gruppo dirigente, quindi dobbiamo essere presenti sul territorio in una situazione così delicata come quella che stiamo vivendo nelle scuole italiane. La 107, la legge cosiddetta buona scuola, va modificata e il sindacato attraverso le sue prerogative contrattuali e con le pressioni cercheremo di cambiare il senso di marcia di questa legge. Ci sono delle cose che non vanno assolutamente accettate, sono sbagliate. Due esempi. Il bonus per i dirigenti non può essere in materia di premio data soltanto dal dirigente ma deve essere inserito in un discorso più ampio nella scuola dell'autonomia e l'altra che è assolutamente impossibile da accettare perché è incostituzionale sbagliata e c'è la scelta diretta dei docenti dai cosiddetti ambiti. Quindi c'è materia di discussione, una materia di discussione che non può rimanere in un congresso, deve rimanere sul territorio, nelle aule e riguarda non soltanto i lavoratori ma gli alunni, le famiglie, riguarda il paese. Quindi oggi è un elemento importante di discussione che riguarda tutti, non soltanto i lavoratori della scuola. Tra le cose positive all'interno di questa riforma, quella che riguarda l'alternanza scuola-lavoro. Sì, anche lì è positiva perché l'alternanza scuola-lavoro non è una novità, è soltanto stata ampliata ed è stata resa obbligatoria. Ma come tutte le cose obbligatorie hanno sempre un limite. L'alternanza va vista sulla base del territorio, l'alternanza scuola-lavoro. Ovviamente su un territorio come quello siciliano non ha le stesse potenzialità che può avere in una struttura industrializzata del nord. Quindi anche lì è un elemento positivo e quindi la legge lo introduce ma con elementi di obbligo, quindi di mancanza di fiducia nella scuola dell'autonomia anche una cosa positiva diventa negativa.